Ho già pensato a che cosa mettere per primo in scatola? Ho pensato, non lo so cosa pensare, perché lì c'è tutti i ricordi e sacrifici, c'è tutto. Se che non puoi, come la penso io, direi parto da questo, parto da quello e mi faccio... Entri, ti fai una stanza, l'altra stanza, l'altra stanza e vedi cosa ti puoi portare. Io non sono quella sfollata, ma sono la figlia della signora che abitava lì, che ha 91 anni, che quindi non vorrebbe rientrare a vedere casa sua, ma per il momento dicono che forse non è possibile, perché è troppo anziana. Ti ha detto che cosa preferirebbe prendere per primo? No, ci ha detto solo che vuole entrare in casa sua. Poi noi ci siamo fatti una lista delle cose da prendere, però lei, il suo desiderio è entrare in casa sua e basta. È fondamentale l'aiuto dei Vigili del Fuoco, diceva. Sì, sì, per me, io dico nel mio caso sì, tutto quello che io trovavo io lo buttavo ai piedi, diciamo. Mia moglie riempiva i cartoni, portava i cartoni e loro cartavano giù, cartavano giù, cartavano giù.